In una stupenda struttura il Borghietta Europa accompagna l'ennesima appuntamento con Catania a vertice. Presidente Nello Russo, quest'oggi un avvenimento molto importante. Oggi abbiamo ufficializzato la presenza del manifesto a cui tenevamo tantissimo. L'ufficializzazione significa che abbiamo completato un percorso iniziale, il percorso di partenza dei Vespi siciliani. Già siamo partiti da circa dieci giorni, oggi abbiamo completato questo periodo breve. Ora significa che ci assistiamo, abbiamo un documento su cui poter lavorare, stiamo programmando i Vespi giorno dopo giorno, perché i Vespi significa una forma di sollevamento popolare. Questo è il sollevamento popolare dello sport siciliano. Giorno dopo giorno abbiamo degli appuntamenti, degli incontri, dove contiamo di fare valere le nostre ragioni. Vi dico una cosa, che il 99,9% delle persone con le quali parliamo sono tutte concordi, ci seguono, ci ammirano e ci dicono di continuare. Quindi non siamo come i politici che quando vengono incontrati per la strada vengono scansati. Noi altri siamo stimati, voluti bene, rispettati e il nostro lavoro lo sappiamo fare, lo facciamo con amore, più che con dignità, con grande amore. Quindi le persone si raccorgono, ma questi carosù lo fanno veramente col cuore, perché non aiutarli? E soprattutto la stamba, la stamba ci sta veramente sostenendo alla grande. Quindi diciamo grazie e veniamo incoraggiati per andare avanti. Grazie a lei, grazie infinitamente a Nello Russo, il presidente di Catania al vertice.